Ferri, hai presente il classico gioco dell'isola deserta dove ti puoi portare a presto soltanto tre oggetti? Sì, certo! Chi è che non lo conosce, Steph? Ok, oggi lo facciamo su Minecraft! E allora voglio una barca per fuggire, Steph! È bellissima! Ma come l'hai pensata, Ferri? È un'idea geniale questa, Steph! È abolita, allora, perché se no... Ma smettila! No, era troppo intelligente, Ferri, devi pensare in modo un po' meno intelligente. E ragazzi, come va? Io sono Ferri, Niki! E sono Steph, e che sto giocando a Minecraft! E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft! E oggi cercheremo di sopravvivere in un'isola deserta, ma non solo, perché in più ci sarà una sfida tra me e Steph! Allora, voglio spiegare esattamente come funziona. Io ho scritto in un foglietto otto obiettivi. Noi avremo otto minuti per farne il più possibile, sfruttando tre oggetti a testa che potremo andare a scegliere. È molto, molto, molto semplice. È una sfida, secondo me, super mega divertente. E quindi, sono super indeciso su che cosa scegliere. Allora, io ho cercato di non pensarci prima, perché sapevo già gli obiettivi. Ma non ci volevo pensare prima del dovuto, perché secondo me se no diventava troppo semplice. Secondo me è bello fare queste scelte di istinto. Esatto. Cioè, proprio quello che ti senti chiedi. Tenendo a mente che gli obiettivi sono un rifugio sicuro, una fonte di cibo costante, un letto, armi e attrezzi almeno in pietra. Ok. Della luce, le armature, la coltivazione e un rifugio carino che è un obiettivo bonus, diciamo, come ottavo se proprio riesci a fare gli altri set. Io scelgo come oggetti. Allora, è complicato, è complicato, è complicato. Direi che scelgo un piccone in diamante, perché non abbiamo il limite di che qualità di oggetti prendere. Facciamo come seconda cosa. Voglio delle uova di pecora. Ok. Che quelle sicuramente me le prenderò anche io, ci sono già pensate. E sono due. Non ne posso avere più di due. Vado su semplice. Come terzo oggetto voglio un'accetta in diamante sempre. Ok. Tu due diamante ti stai prendendo, dai. No, sì, per fare quello vale. Tu devi poi prendere tre oggetti qualsiasi. È come se tu fossi in creativa e puoi scegliere però soltanto tre oggetti. Quindi piccone, accetta e due uova di pecora. Tu che cosa scegli? Allora, io voglio le pecore. Ok. E quindi siamo d'accordo. Le cesoie per prendermi poi la lana per il letto. Perché secondo me... Allora, so che per fare le cesoie ci vuole il ferro. Quindi secondo me il ferro è difficile da trovare. Ok. E quindi mi porto le mani avanti. Buona, buona, buona. E poi mi prendo anche un'accetta. Ok. Per iniziare al meglio. Se tu le prendi in diamante la voglio anche in diamante. Va bene, parto io o parti tu, Fere? Parti tu, vai. Va bene. Come stabilito, piccone, accetta due uova di pecora. Sono pronta a fare partire il timer. Tre, due, uno. Quindi avrò soltanto otto minuti. Tempo partito. Via, via, via. Allora, io parto prendendo un bel po' di legna. Ok, vai. Giustamente, giustamente. Dato che abbiamo la nostra accetta, direi di sfruttarla subito. Allora, secondo me, Consolini, la cosa con cui avrò più problemi è riuscire ad ottenere del grano per poter dire di avere una fonte di cibo infinita dato che posso far riprodurre sia le pecore che la mucca. Anche a me, infatti, preoccupa un pochettino quello. Ok. Però c'è da dire che comunque c'è tanta erbetta, potresti riuscire a procurarti dei semini. Esatto. Anche se poi per crescere e farti altri semini ci vuole tanto. Il grano ci mette parecchio. Quindi, non so, vedremo, vedremo. Trasformo subito tutto. Creo una crafting table. Esatto. Ok. Piazzo subito la crafting table e mi vado a fare dei bastoncini per fare lo eh. Esatto, sì, è una delle prime cose che serve, mi sembra giusto. Ah, ma Fede, non so se ce la farò mai, te lo dico. E sono tanti gli obiettivi, ne hai messi davvero tanti e l'hai resa molto difficile come sfida. Potremmo metterne un po' di meno, dai. No, Fede, non è che devi farli per forza tutti. Eh, l'ho capito, però io voglio provare a farli tutti. Non è che ragiono da perdente e mi accontento di farne tre. Mi butto qua, tanto non è importante che sia una roba carina. E mi faccio la mia sorta di piantagione di grano. Sì, anch'io pensavo di farla, infatti, vicino all'acqua. Ok. Perché è molto più comoda. Ta, 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 ta. Perfetto, ho messo quattro di grano a fare. Ok che non deve essere carino, ma è davvero, cioè, terribile. Grazie, Fede. È brutta. Per me è soltanto un complimento. In un modo che non potrebbe essere più brutta di così, capito? Allora, considera anche che sto trovando anche degli alberelli per poter ripiantare gli alberi, se me lo vuoi dare come bonus, non lo so. Ci vuole tanto tempo per farli ricrescere. Alla casa l'importante è che sia abbastanza grande da avere una crafting table, il letto che eventualmente fai, ma anche se non fai comunque viene considerato lo spazio da avere. Ok. Certo. E una fornace e una porta. Ok. Queste sono le cose necessarie per un rifugio sicuro. Ovviamente deve essere anche chiuso. Dannazione, Fede, pensavo che servisse molta meno legna per fare un rifugio. L'hai fatto gigante, qui potevi farlo piccolo, piccolo. La sai che viene da fare sempre tutto gigante, non è colpa mia. Tipo il letto, crafting table, fornace, tutto. Ah, devo accelerare, devo accelerare, devo accelerare. Ok, ho chiuso tutto, faccio anche la porta. Ma da dove esci, Steph? Ah, ecco. Guarda, è bello, eh. Sì. All'entrata tra le foglie, l'ho sfruttata. Dato che non ho le cesoie per fare le cose esteticamente, sfrutto la natura per fare le cose in automatico. Perché sto buttando le cose, Fede? Non è possibile. Allora, devo controllare a quanti minuti sono. Importantissimo controllare. No, Fede, sono a cinque minuti, non è possibile. Ma come? Di già! Fede, sono a cinque minuti. Non hai fatto nulla, hai fatto solo cinque minuti. Lo so! Corri, Steph! Steph, corri! Ok, ok. Ok, almeno c'è della pietra. Vorrei trovare del carbone per fare anche l'obiettivo luce. Eh, esatto, sì, sarebbe bello. Sono pochi 8 minuti, io pensavo sarebbero stati tanti, invece c'è, vedo che comunque riesci a farne davvero davvero pochi di obiettivi, eh. Ho messo qua le peccari. Allontanati che se non perdo tempo. C'hai perso le tue peccari. Scusa, ma fai qualcosa, cerca del ferro, fai delle cesoie, almeno fai il letto. So io cosa fai, tranquillo, so io cosa fai. Allora, sto bene, Ferre, non sto panicando in nessun modo possibile. Utensili fatti, ok? È l'unica cosa che posso fare. Quanti ne hai fatto? Cosa tu te hai fatto? Credo di aver fatto due obiettivi, Ferre, su 8. No, no, che utensili hai fatto? Voglio capire. Spada, piccone e accetta. Ok, perfetto. Sono scomparse le pecore? Come sono scomparse le pecore? Ah no, eccole. Dimmi che ho fortuna, dimmi che ho fortuna. Niente. Niente. Ok, speravo, ho capito? Eh, esatto, sì, ho capito cosa volevi fare, ma no, non va bene così, Steph, non va bene. Mi manca un minuto, direi che posso provare a fare il recinto per le muche in un minuto. Corri, Steph, cioè non trovo neanche l'entrata in casa mia. Ma sono scomparse tutte le foglie. Eh, certo, perché non almeno tolto, ovvio che scompaiono, Steph. Allora, non ho abbastanza legna. Allora, fai qualcos'altro, su. Prova a fare, non lo so, la coltivazione, sistemati la coltivazione. Vado a vedere se è cresciuto almeno uno di grano. Teoricamente, se riesco a dare da mangiare anche solo a due muche, dimostrando che ho del cibo infinito. Sì, vabbè. No, è troppo lento, troppo lento. Quello non si può fare minimamente in otto. Allora, rifugio sicuro l'ho fatto, fonte di cibo no, letto no, armi e trezzi sì, luce non ho trovato il carbone, l'armatura non ce l'ho fatta, la coltivazione l'ho fatta e il rifugio carino no. Quindi sono a tre cose su otto, mancano dieci secondi e mi arrendo così. No, però ti vorrei chiedere una cosa, scusa, come fonte di cibo non può essere contata la tua piantagione? No. Perché in effetti tu comunque l'hai fatta, cioè dici che per contarla come fonte di cibo effettiva deve essere pronta? No, non per forza pronta, 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 ma almeno un grano cresciuto, una coltivazione più grande. Io avrei considerato pronta la fonte di cibo se avessi fatto il recinto alle mucche e avessi avuto già almeno uno spiraglio di grano per far vedere che sarei riuscita a dare da mangiare alle mucche per avere una fonte infinita. Sei pronta, signorina? Più o meno, sono un po' in ansia. Rielenca le tre cose che hai preso, accetta il diamante. Allora, le faccio vedere, due uova di pecora, le cesoie e l'accetta. Ok, tre, due, uno, via. Legna, 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 ovviamente, ovviamente. Ma forza, su, si muova a prendere la legna, qua mica c'è tutto il tempo del mondo. Ha pensato un po' a una successione di cose da fare? No, per niente. No? No, per niente. Proprio va distinto lei. Te l'ho detto, sì, è parecchio complicato, quindi non so, non so, io penso che vado, cioè raccolgo legna, poi vedo un pochettino come va e continuo ad andare avanti. Va bene, io mi limiterò ad osservare, ogni tanto le faccio sapere quanto tempo è passato, giusto per correttezza. Guardate come impara dagli errori di Steph e si fa la casa piccola, piccola, piccola. Tu hai sempre il vizio di fare le cose enormi, Steph, per te è un problema, cioè è proprio un problema, devi fare le cose piccole, più smart, più veloci, capito? Non so se poi mi, cioè, mi creerà qualche tipo di vantaggio, però almeno ci provo, dai, io la faccio un po' più. Beh, teoricamente devi farmare decisamente meno. Esatto. Ti dico che sono passati già due minuti e trenta, signorina, però, eh. Cavolo, cavolo, cavolo. Sa, non è neanche un obiettivo fatto, non va troppo bene. Adesso faccio il rifugio, quindi stai zitto, Steph. Comunque vuoi un consiglio? Dimmi. Giusto perché sono gentile. Vabbè, adesso fatti un attimino le porte che altrimenti qua... Oddio, c'è super buio. Esatto. Non si vede più nulla. Bucca da una parte e poi fai le porte. Crafta telemolo. Ok, vado, 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 vado. Dicevo, inizia a mettere le pecore e inizia ad utilizzare l'accesoria, così nel caso lì puoi ricrescere la lana. Ci sei? Ok. Mi capisci? Sì, 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 sì. Ok. Più a meno, più a meno, perché sarà complicato. Ok, porta fatta, quindi il rifugio è andato, perché è tutto chiuso, è la porta. Ed è anche carino a differenza tua. E ha comunque lo spazio per le cose necessarie, perché l'importante non è che ci siano, ma ci deve essere lo spazio per metterle. Sono confusa, Steph, perché ci sono troppe cose da fare, troppe cose da pensare ed è difficile fare una specie di... Mica è passato metà del tempo, stai tranquilla, no? Come metà del tempo? Eh sì, siamo a 3 minuti e 45, puoi stare tranquilla. Sì, c'è tutto il tempo del mondo, fai con calma, rilassati, tutto ok, andrà bene. La coltivazione è piccola, piccola, piccola. Peggio di Steph, non puoi fare. Non me ne frega nulla, minuscola. Ok. Oh cavolo! Inizia l'ansia, non mi piacciono le cose a tempo, lo sanno tutti. Lo sappiamo tutti. Le cose a tempo non mi piacciono oltretutto, sai che cos'è? Non ho neanche semi, perché non li ho raccolti. Quindi io adesso sto facendo questo, lo è, me la sono anche dimenticata a casa, e niente, niente, Steph, ti odio. Errori su errori per fare. Eh, io le butto, le butto. Sì, ma è Cesare, vai. Eh, lo sto facendo, stai zitto. Puoi farti il letto, eh? Sì, lo so. Ti consiglio di farlo subito, personalmente, così almeno un altro obiettivo è fatto. Allora, quindi al momento, per farvi un recap, Ferri è riuscita a fare il rifugio sicuro e la coltivazione. Steph! Dimmi! Non mi esco lo semi. Ho notato, Ferri. Lì alla sinistra ne è uno. Dove? Ok, l'hai preso, l'hai preso. Mi interessa dove, dai, ne ho tre. Hai recuperato lo è? Sì, sì, ho fatto tutto. Vai a piantare questi tre, non ci sono più erbace in giro. Tanto non penso che potrà crescere. Che brutta le pecore, le pecore tosate. Mamma mia, mischia. Lasciale lì, lasciale lì. Ok. Poverine. Vediamo. Allora, così sei ufficialmente a tre obiettivi come me. Perché hai fatto il rifugio sicuro, il letto e la coltivazione. A questo punto, se riesci a fare gli attrezzi in pietra, entro due minuti, riesci a battermi. Mi butto giù, scavo. Sì, ma prima di fare il piccone. Non posso farlo a mano. Scavo a mano tutto, non me ne frega niente. Non puoi, Ferri. Lo so, ma lo vado a fare, Steph. Dai, mi stai mettendo ansia, smetti. Guardate che brutto letto che ha fatto. C'ha fatto il letto bianco. Ma chi è che fa i letti bianchi qua? No, ormai esce così, con la lana bianca esce il letto bianco. Non è stata colpa mia, non è stata colpa mia. Sì, sì, va bene. Con la prima pietra, eccola qui. Ok, ti consiglio di non andare troppo in profondità, ma di andare verso avanti, in modo da non sprecare troppa pietra per risalire. Esatto. Altro consiglio utile. Ferri, hai un minuto e trenta secondi. Dovrai craftare un piccone, una accetta e una spada in pietra. Quanto, quanta stormi ci vuole per fare? Eh, cara. Penso mi basti, penso mi basti. Ne ho tipo, boh, forse sedici, quasi venti, quasi venti, qualcosa del genere. Ok, allora può risalire. Ma sta sprecando. Ok, no, che brava, che brava. Lasciami in pace, stai zitto. Signorina, un minuto tondo. Non ce la farò mai. Ce la puoi fare. Non ce la farò mai. Poi ho pochissima legna, speriamo che le stick mi bastino. No, no, non mi basteranno mai. Forse sì, forse no, non lo so, Steph. Non lo so. Allora. Sì. Primo utensile. Ok. Piccone. Sì. Fatto. Ascia. Sì. Ok, mi manca la spada. Ok. Mi manca la spada. Fatto, Steph. Fatto, fatto, fatto. C'è fatta? Quanto mi manca? Posso fare altro? 30 secondi. No, non posso fare niente altro. Aspetta, fammi rivedere. No, non c'è niente che io possa fare il rifugio carino. Guarda, guarda che faccio per il mio rifugio carino. Ci metto due piantine. Guarda che bellino. Eh. È carino. Eh. Guarda che è carino. La forma non è brutta, Steph. Me lo puoi contare come obiettivo bonus. Ho dovuto mettere un po' di cobblestone nel tetto e un po' di birch. Ti faccio vedere anche gli utensili giustamente per correttezza. Uno. Due. Ok. E tre. Ok. Far vedere che li ho fatti in pietra ed è tutto a posto. Quindi, Ferri è riuscita a fare il rifugio sicuro, il letto, tutti gli attrezzi in pietra e la coltivazione. Quindi ho fatto quattro obiettivi su otto. E il rifugio carino. In otto minuti battendo Steph che ne ha fatto soltanto tre. E il rifugio carino non l'hai fatto, cara. Comunque, guarda, ti ho battuto solo perché ho scelto gli oggetti meglio di te. Le cesoie. Perché io sapevo che sarebbe stata difficile raccogliere la lana, mentre gli altri, comunque con più tempo, sono tutti fattili. Voglio però giustificare una cosa, a parte quello zombie che se ti ammazza. No, ti prego, vattene, ho la mia spada, vattene. Dicevo che io ho scelto il diamante, il piccone in diamante, perché speravo di riuscire a scavare e trovare sia il carbone che il ferro per fare l'armatura. Quindi è stato un tentativo in quel senso, ma purtroppo qua sotto l'isola c'era tanta sortuna e tanta tristezza e per Steph è andata male. Ma probabilmente c'erano anche, ma avresti avuto bisogno di scavare per molto più tempo. Sì, ma poi, sai, rendere in lingotti il ferro non avrebbe fatto in sbagliato, ho proprio cannato. E infatti io, sapendo che erano tutte cose che richiedono tanto tempo, ho cercato di farmi l'obiettivo con i tre oggetti, se giusto quello, un obiettivo, il letto e Steph non mi picchiare perché ho vinto. Beh ragazzi, se vi è uscito di tutto, lasciateci un bel like. Questa è la prima volta che ho detto il nostro video, potete considerare di iscrivervi per non perdermi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao ciao! Ciao!